Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel secondissimo episodio! Allora è passato tanto tempo perché ho deciso di finire tutto il progetto della casa che volevo e che peraltro non è ancora finita ma vabbè la roba essenziale è finita. Sono andato a minare purtroppo non sono andato a registrare perché volevo comunque finire non volevo avere due ore di registrazione dove piazzavo blocchi e basta vabbè Comunque vi faccio subito vedere. Guardate che bello! Questo qua è zucchero formato in cristalli giganti per il tè mentre dentro si mettra il cucchiaino mescolando si scioglie lo zucchero e il tè zucchero. Molto bello! BOOM! Guardate che forza! È ancora da ultimare! È immensa! Sono tre piani! Andrò messo al vetro e ho ancora un po' di decorazioni fuori ma comunque la struttura è finita! Allora qui ci farò non lo so poi ci farò magari quindi sì devo ancora finire va bene ci farò un po' di struttura magazzino per i cavalli. Poi devo ancora finire l'arco ci farò le stalle per i cavalli poi un'altra cosa scoperta qua sotto non so se comunque qua sotto c'è un chunk di slime e non voglio sfruttarlo perché non voglio distruggere eccoci qua ho fatto tutto un meccanismo assurdo per fare apertura vedete i pistoni qua sotto c'è ancora un po' di blocchio a togliere va bene. Teoria questa scala vanno una scala da qua trovo a andare ben giù fino in fondo qui è dove ho avuto accesso qui come vedete qua c'è ancora ci sono dei diamanti ne ho già trovati altri otto e ho già trasformato in piccone questi sono altre tanti di credo spero di sì qui ho ancora un po' di redstone che ho preso ne ho già presa parecchia che ce n'era qua dove era non era qui comunque qua dove ho sentito lo slime e c'era lo slime e alla fine c'erano degli slime qui ho preso redstone sì qua c'era redstone e dei diamanti ah c'erano c'erano altre ragazze qua c'è altre redstone ok comunque vi ho saltato tutta la parte pallosa dove costruivo la casa dove farmavo roba inutili è un peccato che non ho registrato ovviamente ho trovato i diamanti ma pensavo che guarda che forza PAM fantastico è una roba pazzesca comunque tenendo conto che non sono ancora protetto perchè non ho non ho come si dice non ho armatura non ho ar ragazzi ho gli otto diamanti ancora peraltro sono andato a esplorare le barche e c'erano quattro smeraldi tredici lapislazzoli del farro che ho già fatto un piccone per prendere i diamanti e dieci petite di farro cioè meglio di così cosa posso il genere ah e poi dentro c'era anche aspetta adesso se no mi assolgo con il feedback uditivo ho trovato un atterraggio morbido 3 e una finita all'acqua e direi visto che non voglio crepare subito scegliamo sì direi andiamo a farci una spada di farro non la faccio in diamante perchè i diamanti li teniamo come fosse raro e andiamo a dormire perchè oggi cosa faremo? oggi inizieremo a costruire delle farra basilari non automatiche però per iniziare e calcolare un attimo come funziona beh serve il minimo allora qui togliamo questo e intanto andiamo a riposizionare qua ok perfetto poi se non sbaglio qui sotto dovrebbero esserci delle altre alghe che non sono queste vero? no questa è l'erba marina comunque le alghe mi spara di non vederle i smeraldi erano incorrette laggiù mentre l'elmetto e cose erano nel reddito che avevano sotterrato sotto casa che quasi quasi mi prendo la prima in sac ok ragazzi ancora lasciate vabbè andiamo un attimo qua le canne da zucchero allora sicuramente devo fare cosa che devo fare? sicuramente devo fare un punto che collega la la quindi andrò a costruire più avanti un ponticciolo che vi vado a collegare la terraferma è una fama veramente economica che è quella nuova che hanno fatto per la versione 1.1 e 1.2 quella per la 13 punto si può fare solo che è più dispendiosa perché servono una cordicella, il filo d'inciante, una porta cioè serve ancora tanta roba per quella e quindi è ancora un po' costosetta e attualmente non possiamo farlo quindi questa qua molto più piccola e compatta e ugualmente efficiente magari poi sull'isola andremo a fare più farm di pesca magari ne faremo due o tre in fila un po' qua e là così dai così se mettiamo anche qualcuno in un server che andremo a mettere più avanti se riesco a mettere un server metto questo mondo nel server e poi chi vuole farmare ha due farm disponibili comunque vi faccio quindi ho fatto che ho fatto la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso, mi metto io quello che non serve perché io ne so abbinare le robe alla perfetta. Grazie, ciao. Ok, allora lo spazio è bello che è pronto, è già a posto. Quindi ci servirà, poi andremo ad aggiungerne un'altra, sono anche raffreddato. Andiamo ad aggiungerne un'altra sicuramente, quindi facciamo il posto per due. Una qua e una qui, quindi questo così. Poi, vabbè, è andata giù sbagliata, vabbè, vabbè, pazzia, non importa, non importa. Allora, non gli da farlo, dobbiamo farla con l'hopper che si aggancia. Noi vogliamo anche l'hopper che si aggancia dietro. Ah, quindi ho uno qui. Ok, peraltro è un'opera, vabbè, non ha importanza, non si arriva. Ok, questo qua così, poi se non ricordo male, questo qua, lascio il play, poi ci abbiamo bisogno, Dio povero, non riuscire a piazzare qua dietro. Allora, ci saranno dei blocchi, non ci sono sabbia che hai fatto. Uno e due, dovrebbero essere tre, quattro, no, no, ma non così. Perché me la metti così? Ah, perché c'è la sopra. Ah, ok. Va benissimo, allora adesso prendiamo della viera con cui andiamo ad ingabbiare l'acqua, insomma una roba del genere. Creiamo un buco qui, così l'acqua può passare. Vabbè, pazienza, adesso verrà attravolto e sparirà. Comunque, un blocco lo piazziamo qua. Piazziamo così. E l'acqua dovrebbe uscire di là e non uscire di qua. Ora piazziamo l'acqua qua. L'acqua va di qua giustamente in maniera eccezionale. E in teoria è scatto adesso. Sto appuntando. Ragazzi, non so. Non deve essere proprio così, eh. Ma però c'è anche il blocco da cuore di tira. Non capisco se ho proprio qualcosa. Ok, ha preso qualcosa, non capisco perché non me l'ha dato subito. Boh, comunque facciamo così. Spiazziamo un blocco qua sopra, che così non rompe. Mentre fermiamo. Ok. 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 Ok comunque Ok funziona Funziona per quello Probabilmente appena posso Andrò a fare quella Quell'altra 1.13 che basta che mi ero lì Che è molto più facile posso Perché questo appena si va fuori C'è bisogno di mettere lì e così basta non Cioè non capisco Perché in teoria quando prende dovrebbe aprirsi e chiudersi Boh Raga non lo so Adesso appena posso se pesco qualche gancio Vado a creare anche quell'altra Della 1.13 che secondo me Funziona meglio Vabbè non lo so Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti A presto 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 Grazie per la visione!